Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video io mi chiamo Maria e questo è il mio canale scusate solo che la qualità del video è diversa, solo che sto registrando quel telefono di mio fratello perché la fotocamera non va, quindi si e oggi vorremmo fare cioè io insegnerò a mio fratello a fare i musicali quindi ci saranno molte le stagioni iniziamo insieme come canzone abbiamo deciso questa allora io ora ti farò vedere e poi tu dopo capito? comunque io metto sempre la modalità veloce sarebbe questa qui, eccomi perché diciamo è la migliore allora iniziamo ora ora me lo metterò qui è venuto abbastanza bene e ora tocca a te hai capito? più o meno ne hai capito? sicuro? si che metti questo? così? qua? così? è già sbagliato ma che stai facendo? ok mi sembra ovvio me lo metterò qui no è troppo bello allora ora ti farò un'altra canzone tagli animista perché? ora faremo questa canzone ok ok ho sbagliato anche io qui questo è con le transition guarda ecco ora ve lo metteremo qui ok ora lo farà lui e comunque però qua lo devi fare più amaro ecco ora no devi ricominciarla qua vai vai tira sopra ora ve giù no devi mettere la dentatura ok me lo metteremo qui non è quello che mi aspettavo però ci sei andato vicino ora faremo l'ultimo perché si ecco ora facciamo questo che è l'ultimo quindi si ascoltate allora faccio un attimo io e poi lo faccio la modalità è sempre veloce ecco che è l'ultimo allora deve fare lui dai che è facile qui vai mettilo sempre non so nel telefono ecco noi ecco come va bene che sto dicendo vai non è così no vai così sì allora raga per questo video è tutto scusate per comunque seguitemi sul mio profilo musicali rosso qui alla fine del video e spero che questo video vi sia piaciuto mettete like iscriviti al mio canale e commentate se volete e se volete anche iscrivetevi che video vorreste per giovedì ciao